8 arresti sono stati seguiti a Caltagirone dai carabinieri, 5 persone sono state trasferite in carcere, mentre per 3 sono scattati i domiciliari. Sono tutti accusati di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati di estorsione, furto, ricettazione, truffa, detenzione illegale di munizioni per arma da guerra, violenza sessuale, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre a esercizio abusivo a scopo di lucro.